Andrea Arbizzani di Almet Italia, il MXP 2020 quest'anno si sta facendo attendere, ma tutto ciò non fa che aumentare la nostra voglia di partecipare e di ripartire tutti insieme, di far ripartire anche tutto il paese insieme al MXP. Abbiamo molte novità da presentare, la Lega Alplan, in Lega 682 e in 7075, piastre laminate e fresate per l'industria dell'automazione e del packaging, le barre in leghe senza piombo, che sono uniforme alle nuove normative ROS che entreranno in vigore nel 2021 e che sono già disponibili presso i nostri magazzini. Non vediamo l'ora che arrivi ottobre per poter essere presenti e per poter stringere la mano a tutti i nostri clienti e amici al MXP 2020 di Parma.